È trascorsa una settimana dalla data stabilita dal Tar del Lazio per la possibilità concessa agli avvocati degli sciolti di prendere visione della relazione della Commissione d'Accesso Antimafia senza gli omissi apposti per tutelare la segretezza dell'indagine in corso. Come si ricorderà, tale concessione a marzo fu presentata dagli sciolti come una vittoria in grado di capovolgere l'esito dei giudizi sia amministrativo che penale, ovviamente a favore degli sciolti. Da davvero che ciclicamente il più in vista degli sciolti, l'ex-ex sindaco, pubblica sui social messaggi subliminali che tendono a rassicurare sostenitori e tifosi. Messaggi misteriosi, quasi iniziatici, degni di incappucciati, dediti a riunioni segrete. Messaggi da La verità sorgerà al di sopra del dubbio In attesa di ottobre, data del prossimo pronunciamento del Tar In attesa di ottobre, ma anche presto, chi vivrà vedrà. Passando per oscuri messaggi palesemente contraddittori, laddove si premette e promette fiducia nell'istituzione e nella magistratura, per poi denunciare che i complotti quasi autentici falliscono sempre. Complotti Chi complotta? Ogni provvedimento che ha riguardato l'ex-ex e i suoi confratelli è stato emanato da organi istituzionali, magistratura, carabinieri, prefetto, ministero dell'interno, consiglio dei ministri, presidente della Repubblica, quelle istituzioni appunto di cui a parola si dice di aver fiducia. Quindi chi complotta contro amministratori definiti dalla relazione antimafia come soggetti che hanno posto in essere una mala gestio che si rende utile, parole precise, a garantire un distorto utilizzo delle norme e delle procedure a beneficio di un accaparramento monopolistico e molto redditizio di forniture e di servizi da parte di soggetti quasi sempre espressioni di consorterie criminali. Chi è che complotta contro questi galantuomini, contro questi fuggiti esempi di corretta amministrazione? Forza, ora che avete la relazione che chiedevate di avere, fuori i fatti, ma su questo terreno tutto tace, tranne post vagamente massonici disseminati qua e là, messaggi in codice più o meno, ma rivolti a chi? Molti fatti invece, fatti concreti, emergono invece dalla relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso relativa all'anno 2020, una relazione resa nota qualche settimana fa e che contiene elementi molto interessanti, elementi e spunti di riflessione che riguardano il nostro Paese, soprattutto se si considerano le ghiacchiere fatte sui bancati arresti, sull'attesa delle sentenze, sull'assenza di pronunciamenti della magistratura giudicante. Questa relazione fa riferimento proprio a pronunciamenti delle magistrature amministrative e penali, cioè taso, consiglio di Stato, corti d'appello, eccetera. Quindi partiamo dai necessari chiarimenti sul perché è necessario sciogliere un'amministrazione pubblica infiltrata dalla mafia. Si legge nella relazione Lo scioglimento dell'organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un'emergenza straordinaria. Di conseguenza sono giustificati ampi margini nella potestà di apprezzamento dell'amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale. Ora, caliamo questi concetti nella realtà pratolana per come è emersa dall'attività ispettiva della Commissione d'Accesso Antimafia. Per quanto riguarda la notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata, si legge nella comunicazione, sempre questa, del Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, la comunicazione è legata alla relazione del Prefetto. Dice la Ministra, gli amministratori hanno potuto intrecciare rapporti con esponenti delle criminalità appartenenti a cosche diverse riconducibili al cosiddetto missis e ad altri clan storicamente presenti sul territorio campano. Questo significa che era notorio che ci fosse la Camus, come dice quella relazione che fa riferimento a sentenze per altri enti sciolti per Camus. Il principio che svincola lo scioglimento da arresti e condanne è spiegato bene nella relazione 2020 sugli enti sciolti. Quindi il fatto che non ci siano arresti e condanne non significa che l'ente non può essere sciolto. Questo per chiarirlo e vediamo come viene chiarito. Pertanto, dice sempre la relazione, in tale ambito di apprezzamento rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimo è necessario un quid pluris, cioè ulteriori elementi, consistenti in una condotta attiva o omissiva condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall'amministrazione competente, cioè in questo caso il Ministero degli Interni, con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultante, cioè che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi. Dice in pratica il Ministro, l'ingerenza puoi averla anche subita, ma lo scioglimento, reato o no, è legato a fatti precisi. Non solo, il provvedimento di scioglimento dell'amministrazione si rende necessario per tutelare la comunità da ulteriori danni derivanti dalle ingerenze mafiose e dalle conseguenti decisioni condizionate da tali ingerenzi. Tornando a Pratola, si sprecherebbero gli esempi di danni ai cittadini prodotti dagli amministratori sciolti per favorire soggetti legati ai clan camorristici e ai loro prestanove. Quanto al pregiudizio per i legittimi interessi della comunità locale è la relazione del prefetto Speyna a chiarirci le idee la nuova evidenzia che l'assoggettamento a interessi illeciti investe non soltanto il vertice dell'amministrazione ma anche alcuni esponenti del Consiglio e dell'Aggiunta. dice ancora più esplicitamente il prefetto che vi è stata una commistione tra attività politica e gestionale che il risultato funzionale al conseguimento di obiettivi distanti dall'interesse pubblico è volta a favorire i soliti nodi. Chi siano i soliti nodi lo sanno anche le pietre a Pratola e non solo a Pratola. E veniamo alla questione dell'incandidabilità altro tema oggetto di fandonie da parte degli sciolti. C'è una sentenza del Tribunale di Avellino che vieda gli sciolti di candidarsi per due turni elettorali e questa sentenza varrà finché non sarà corretta da una sentenza di appello o di terzo grado. Se questo avverrà, per adesso c'è una sentenza che li condanna e non si possono candidare. Ciò significa che se si andrà al voto tra un anno, ad esempio, in assenza di una sentenza d'appello favorevole agli sciolti, essi non potranno candidarsi. Ma la relazione sugli enti sciolti del Ministro dedica molto spazio proprio al tema dell'incandidabilità per amministratori responsabili dello scioglimento di un Consiglio Comunale per mafia. Leggiamo. La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento dei Consigli Comunale e Provinciali non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, cioè l'arresto. Ai fini della pronuncia di incandidabilità non si richiede necessariamente la prova di comportamenti idonei a determinare responsabilità personale, anche penale, degli amministratori o ad evidenziare il loro specifico intento di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, risultando invece sufficiente l'acquisizione di elementi idonei a far presubere l'esistenza di collegamenti con quest'ultima o di forme di condizionamento tali da alterare il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi del Comune, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi pubblici o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza pubblica. In questo caso, cioè il nostro, è la relazione del ministro Lamorgese a spazzare il campo da ogni dubbio. Scrive il ministro «Dalla relazione del prefetto si rileva l'esistenza di una complessa rete di amicizie, frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali, dipendenti dell'ente locale e soggetti appartenenti o contigui a clan camorristici, ampiamente documentate dai social, così come questi ultimi, cioè gli esponenti della camorra, hanno beneficiato di favore nell'acquisizione di pubbliche commesse, di affidamenti per il patrimonio comunale o nell'esercizio di attività commerciale». E ancora, sempre il ministro. I lavori della Commissione d'Accesso hanno preso in esame la gornice criminale e il locale contesto ambientale ove si colloca lente con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori ed esponenti delle consorterie camorristiche. Gli esiti hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel tempo in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi. La relazione del ministro sugli enti sciolti, quella pubblicata qualche settimana fa, consente di fare chiarezza anche sulle assurdità provenienti dagli sciolti sull'indimostrabilità della loro intenzione di favorire i clan perché alcune situazioni risalgono a periodi antecedenti alla loro elezione. La relazione, infatti, sottolinea che non assume rilevanza il fatto che le disfunzioni dell'apparato burocratico-amministrativo siano pregresse essendo sufficiente che l'amministrazione in carica nulla abbia fatto in concreto per rimuovere l'inefficienza con la conseguenza che anche un comportamento meramente omissivo cioè non fare nulla di concreto o comunque di tolleranza o di dissociazione meramente nominale o dichiarata ma non effettivamente posti in essere costituisce in effetti la perpetuazione della situazione di disfunzione e di illegalità preesistente che sul piano della tutela è oggetto di disvalore quanto la condotta commissiva che l'ha originata. E questo è molto esplicito. sono fatti che smontano le chiacchiere a vuoto degli sciolti con specifico riguardo al tema della colpa diciamo così prosegue la relazione del 2020 quindi è una cosa che ha molto a che fare con quello che hanno detto gli sciolti dove sta dimostrata la nostra colpa riguardo al tema della colpa è stato osservato parliamo sempre della magistratura è stato osservato che il principio soprenunciato possa essere declinato esigendosi dall'amministratore che intenda cimentarsi ed operare in ambiti territoriali così diffusamente interessati da fenomeni malavitosi un grado di diligenza e di capacità professionale capaci non solo di fronteggiare le già complesse vicende della cosa pubblica ma di porsi e di manifestarsi nell'interesse della collettività come credibile componente di un'istituzione presente nel territorio a presidio innanzitutto della legalità del proprio agire a cominciare dalla percepibile presa di distanza dai poteri malavitosi ciò che non può essere sottovalutato è il potere e il dovere del sindaco in particolare di esercitare il controllo esterno di legalità e correttezza dell'agire amministrativo non c'è passaggio delle relazioni di ministro e prefetto che riguardano Prato Laserro ovviamente che non sottolinei come i fratelli sindaci omissi tutto siano stato forché diligenti e capace di fronteggiare i fenomeni malavitosi altro che presa di distanza dato che nella relazione si parla fin anche riguardando Prato ovviamente di reati come l'usura tutti consumati nel nostro territorio altro che credibile componente di un'istituzione presente nel territorio a presidio innanzitutto della legalità credibili quelli gli sciolti scrive il prefetto Spena con ancora più precisione e chiarezza leggiamo l'analisi globale unitaria delle criticità emesse ha dimostrato la sussistenza di un effettivo condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di soggetti controindicati cioè esponenti di clan camorristici restiamo restiamo dunque in attesa che gli sciolti ci illuminino sul ribaltamento dei fatti che doveva essere impresso dalla conoscenza senza omissis della relazione dell'antimafia ma il loro silenzio è più eloquente di una sentenza di un'antimafia di un'antimafia